Buongiorno a tutti, benvenuti. È un onore ed è emozionante vedervi tutti qui. L'obiettivo della giornata, il tema della giornata è la bilancia del successo e avervi qui è veramente motivo di grande soddisfazione. Gli interventi di Luigi Caricato e Luciano Tona sono fondamentali per dare il via a questo incontro, ma poi ci aspettiamo attraverso alcuni casi che abbiamo selezionato, casi della ristorazione importante e la vostra esperienza di professionisti, ci aspettiamo un grande dibattito. Siamo già andati oltre la mezz'ora, ma questo ci è servito per scaldare e per far girare la testa e le idee, quindi do la parola a Luigi Caricato che aprirà il convegno. Grazie.